Fratelli della Razzura, amici di Facebook, YouTube e Instagram, buongiorno a tutti ragazzi, un saluto a tutti gli iscritti al canale, buon giovedì, buon giovedì. Allora intanto ragazzi, vi ringrazio perché ho visto qualche commento, insomma vedo che apprezzate anche il lato, diciamo, la vena artistica del DEC, insomma mi piace disegnare, se no non facevo il geometro, però mi piace disegnare anche a mano libera, quindi quella è una cosa che io mi porto avanti, ragazzi, quando ero piccolo, cioè, veramente, io le coreografie le disegnavo, cioè il mio primo super tifo ce l'ho a casa dell'80. Quindi avevo dieci anni, quindi già vedevo il fumò, contavo i tamburi e iniziavo a disegnare, anche perché all'epoca super tifo, se vi ricordate, chi si ricorda, chi è Matusa, faceva un po' questa cosa, no? Tu gli spedivi il disegno della tua coreografia, quelli più carini li pubblicavano, quindi tu, mensilmente, perché all'inizio era mensile, se trovavi il tuo disegno, insomma, poi di volte a me era capitato, li ritagliai anche, ma figure di dove cazzo saranno finiti. Detto questo, poi uno, sai, va avanti, ci si affina, io ancora mi ritrovo, no? Quando ho del tempo libero, che mi piace disegnare, che mi rilassa, insomma, quindi avete visto un estrapolino, andate a vedere i video sui disegni, e vi dico già, vabbè, a parte il fatto che, un piccolo segreto, un piccolo trucco, ecco, non è perché mo' impazzisco così, ho le sagome, mi sono fatto le sagome dei vari meazza, vedete, così è tutto vuoto. Dovesse fare la nota una coreografia su tre anelli, ce l'ho tutto vuoto, così è su due anelli, vedete, col terzo anello dove c'è già la gente, quindi ti fai la fotocopia e ci disegni, e così la versione con striscioni, perché ci sono state delle coreografie anche con versioni e con striscioni, quindi, anzi adesso devo fare le fotocopie, perché? Perché, perché ragazzi, è giunta l'ora di aggiornarle un po', no? Quindi, quando un attimino avrò del tempo libero, ormai la mano va da sola a fare queste cose. Eh, insomma, ci sono, io metto due belle coreografie, sicuramente, che sono quelle dell'anno scorso, una è stata premiata da super tifo proprio, quella della finale di Coppa Italia, una cosa strepitosa, pazzesca, fatta in uno stadio non nostro. L'altra è quella del derby, 3-0, di Coppa Italia, perché è stupenda, anche perché, se vi ricordate, la live che avevamo fatto sul canale Curva Nord, ci fu un casino prima di quel derby lì, dove era stato lasciato tutto il materiale, quindi non doveva neanche essere quella coreografia, è stata allestita quella coreografia che è strepitosa, su tre anelli, fatta tutte a cartoncini, nel giro di poco tempo, quindi quelle due, e poi voglio fare quella nuova, il nuovo corso, quindi ci sarà, visto che sarà uno striscione unico, mi metterò lì a disegnare per bene, lo striscione unico, e poi ci sarà la nuova coreografia, quella di Inter-Napoli, insomma, quindi preparatevi, ci sarà anche il making of di questi tre disegni così, adesso ve l'ho spiegato come, da dove si parte, a parte l'Olimpico, che quello, vabbè, lo faccio io l'Olimpico, lo si farà al momento l'Olimpico, ecco. Detto questo, ragazzi, su tre minuti, però lo sapete che è un argomento che si vede che mi piace, sono l'unico canale che porta le coreografie da anni ormai sul tubo, detto questo, ma voi vi ricordate? Poi arriviamo anche al discorso più avanti, dove sai, ne abbiamo sentite talmente tante, ne abbiamo sentite negli ultimi tempi, e tante prese per il culo anche, che dopo uno si rompe anche il cazzo, però vedi che poi escono fuori, ma adesso ci arriviamo, adesso ci arriviamo, perché proprio una cosa è fresca fresca, è molto fresca, cioè, sono le 13.28, è freschissima, ma detto questo, vi ricordate quando dicevo, minchia, ma ragazzi, ma avete sentito le parole di Ausilio? Noi stiamo qui a sperare Turan, quello, speriamo di prendere, io dicevo, minchia, proviamo un attaccante, e dicevo, se proprio non si riesce, perché non è, le vie, Dunfriss, quello più sacrificabile, ma a 40 lo accompagniamo noi, sono lì i video, però Ausilio, vi ricordate Ausilio, che ci dite proprio l'ammazzata, i nostri calciomercato di quest'anno, parole di prima di Natale, saranno Lukaku, Brozovic e Correa, porca puttana, Brozovic, non è neanche un minuto in campo, Lukaku, ho visto 10 minuti caccati in campo, Correa può giocare tutti i minuti che vuole, tanto è come se non ci fosse in campo, voi sapete, io non parlo di calciomercato, cioè di solito parlo a fine calciomercato, ma qui non c'è un cazzo di nulla, mancano 5 giorni, mancano 5 giorni, la situazione è analoga, è analoga, e uno non si deve preoccupare, no? Cioè ho capito che negli 11, se vanno come devono andare, se il mister li carica a molla, l'abbiamo visto che sono belli, ok? Ma siccome non siamo sempre così, siamo il massimo della discontinuità noi, perché una squadra che vuole vincere lo scudetto non può fare 6 sconfitte nel girone d'andata, e l'anno scorso quella discontinuità, quindi manca i 5 giorni e qui calciomercato, cazzo di niente, per quello dico speriamo che succeda qualcosa più presto, speriamo ragazzi, speriamo, però, però anche lì, eh, adesso ci arriviamo tra un po', perché poi le battute, sentite in tv, eh, attenzione, sta roba è in tv, eh, e poi lo sapete che io seguo molto, seguo anche perché adesso poi riprenderanno anche a chiamarmi, ci sono delle cose che veramente le sento da anni, le sento, dopo un po' ti girano i coglioni, anche perché io ero uno di quelli che combatteva su queste cose qui, ma ci arriviamo, quindi il calciomercato ad oggi è questo, il calciomercato ad oggi è questo, devi andare in chiesa, accendere un cero, pregare la Madonna, sperare che Lukaku, Lukaku, quello che ho visto, che è entrato, deve trovare la miglior condizione possibile, io ho l'ansia che se si rifà male, vedete se sto a pensare che quello deve ritrovare la condizione, cioè, e siamo a febbraio ormai, siamo a febbraio, questo deve dimostrare adesso, in queste poche, in questo girone di ritorno, in queste partite, che può rimanere all'Inter, un po' pochino, eh, tu guarda quanti mesi, tu guarda Brozovic, Brozovic da dopo quel cazzo di rinnovo, che è durato telenovela tipo Beautiful, si continua in fortuni, quindi la situazione è questa, quantomeno l'anno scorso, due anni fa, qualcosa a gennaio si muoveva qua, qua non si muove una fava, comunque, detto questo, vedremo, mancano, ah, vaffanculo, mancano cinque giorni, mancano, staremo a vedere, allora ragazzi, allora, siccome ho fatto, detto un po' di cose, no, in questi giorni, parlando appunto di quello che stava succedendo in casa Juve, e dicendo, cazzo, eh, venivamo presi noi per il culo, va bene, siamo con le pezze al culo, siamo pieni di debiti, e sono lì da vedere sono, cioè non c'è nulla lì nascosto, capite? però io poi, in questi anni, questi anni, no, mesi, anni, continuano a sentire dire, in tv, eh, dai soliti noti, eh, ma i debiti dell'Inter, i debiti dell'Inter, i debiti dell'Inter, io dicevo, ma pensa ai cazzi tuoi, pensa a casa tua, anche qualcuno su Instagram, che è proprio, c'è l'Inter, c'è un odio sull'Inter, che è proprio, è una cosa pazzesca, infatti tutti inveiscono, ma è normale, è normale, dicevo io, in questi anni, fatti i cazzi tuoi, che ancora dobbiamo capire, io dicevo, e chi si ricorda lo sa, perché cazzo, ne ho dette, in questi anni, ancora dobbiamo capire, ci sono 200 milioni di euro, indagati, vi ricordate il passaggio, Berlusca, Yongion Lee, eh, questa presenza oscura, sconosciuta, che si è giocata il patrimonio, e poi è sparita, cioè, ancora dobbiamo capire, che cosa è successo lì, e questi ci hanno menato il torrone, per anni, per anni, lo sappiamo, siamo indebitati, ma probabilmente siamo indebitati, perché forse hanno fatto anche le cose, ha cercato di farle abbastanza in regole, guarda come cazzo siamo messi, forse, forse, e adesso vengo a leggere, vengo a sapere, leggo adesso, notizia dell'ANSA, che stanno indagando pure sul seguente passaggio, di proprietà, quindi tutti quelli che ci hanno rotto il cazzo, che ci prendevano per il culo, io, quando Moratti è venduto a Zango, quando il tuo ire ha venduto a Moratti, non ho sentito tutte queste cose, indagini o che cosa, sul Milan sì, sul Milan sì, ma ripeto, ancora dobbiamo capire, che cosa è successo, la vendita precedente, e qui già si sta indagando, su quella successiva, quindi, quello che dico io, e non lo sto dicendo, non sto parlando di YouTube, non c'entra un cazzo YouTube, non c'entra un cazzo YouTube, ce ne sono due o tre, ce ne sono, che bazzicano in TV, che c'hanno, cioè, io sono prima tifoso dell'Inter, dopo, guardo cosa ha fatto il Milan, e si è perso, ma se l'Inter ha già vinto, lo prendo per il culo, ok, ho sempre ragionato così, no, questi si dichiarano tifosi alla loro squadra, ma sempre pensano all'Inter, all'Inter a parlare dell'Inter, i debiti, debiti il cazzo, raccontateci adesso, cosa sta succedendo, non sono normali due indagini, ripeto, dobbiamo ancora capire, com'è andata quella lì, quella roba lì, ancora bisogna capirla, quindi, da una parte abbiamo, i Juventini, che ci hanno menato il torrone, ah, i prescritti, con le pezze al culo, non pagano gli stipendi, boh, boh, guarda là, e dall'altra parte questo, poi cosa c'è, c'è l'Inter con le, lo sappiamo, e l'Inter è questa, con le pezze al culo, e noi qua siamo, speriamo che cambia la situazione, quello è, per il momento, se poi, dovesse uscire qualcosa sull'Inter, ma ripeto, sui cambi societari, eh, e sono passati ormai quanti anni, sette anni, non si è mai detto A, non si è mai detto A sull'Inter, almeno questo datecene atto, almeno che, tra vent'anni non verrà fuori qualcosa, ma qui, su questa cosa del Milan, e ci stanno dietro da un po', ci stanno dietro, ma dobbiamo ancora capire cosa è successo, quindi, questo dico io, guardate prima in casa vostra, prima di rompere il cazzo agli altri, condivisione dei video, iscrizione al canale, sempre forza Inter, non lo so io, il calciomercato, non so cosa dire, veramente, il calciomercato è quello, sono quelli i giocatori, quelli che ho elencato, sono i giocatori del calciomercato, ripeto, chi può andare all'urdo, chi può andare, faccio un bidet nella fontana, benedetta, non lo so io, perché qui, la situazione è questa, devono essere tutti i titolari, devono andare tutti a mille, girare a mille, e ci deve essere anche il mister, che dica, perché se c'è il mister che sbaglia, se c'è qualcosa di qua, e quello è mentalmente così, e quell'altro pensa, ma le avete, oh no raga, devo chiudere questa cosa, ma corre al video, che lo stanno prendendo tutti per il culo, corre a sveglia, corre a sveglia, ma quella roba lì è emblematica, questo dorme in campo, dorme, dorme in piedi, sembra il mio cagnolino derby, ma lui poverino, ha 14 anni, è vecchiotto, allora ogni tanto, se tu gli fai le carezzine, e lui, si ammocca cazzo, ma tu sei in campo nell'Inter, puttana la Juventus, condivisione dei video, iscrivetevi al canale, sempre Forza Inter, ciao.